Grazie all'azione di un'associazione di Fano, un bellissimo plastico che era stato vandalizzato, ripristinato e riportato al suo splendore originale. Sì, grazie al Rotary che ha dato un'ulteriore mano, oltre ad averlo fatto, donato alla città. Va segnalato questo atteggiamento che è vero, la cosa è iniziata con il carnevale, dove ogni scherzo vale, però alcune cose hanno bisogno di uno stop, bisogna che la gente stessa, perché non ci sono tanti altri modi. È un'educazione civica che ormai deve essere nei ragazzi, negli adulti, di non fare certe cose, perché poi diventa molto difficile ripristinarle con i tempi che corrono, con le risorse che ci sono, umane e tecniche. Quindi questi due plastici che al pincio danno una mano ai turisti e ai cittadini a capire la storia della città, sono una cosa che è utile per tutti e da tutti vanno preservati e conservati. Questo chiaramente è un ragionamento che fa il paio con le scritte che compaiono ciclicamente con delle ammenità sulle mura romane. Non è solo un problema di costi, è il danno che si fa alle arenarie storiche, è un patrimonio che il mondo ci invidia e quindi io credo che con un po' di testa, di buona volontà e sensibilizzazione che faremo anche nelle scuole, queste cose dovrebbero sminuirsi nel tempo. Tuttavia, qualche panchina rotta l'ho vista anche l'altro giorno, in qualche giardino, chi si diverta a sfasciare il bene pubblico non sa che poi lo paga con le tasse, perché poi in una città confortevole, civile, deve non solo resistere ma sostituire questi beni. E quindi diventa dovere di noi tutti e di chi ancora sconsideratamente fa queste cose essere un po' emarginato e corretto magari dai suoi stessi compagni di strada, che non sono tutti così ragazzi.